Lascia che proceda a illustrarti brevemente quella che amo definire la filosofia di Perry. Primo, se quello che fa la fila davanti a me al bar non ha deciso che cosa vuole quando è arrivato alla cassa, dovrei avere il diritto di ucciderlo. Secondo, sono quasi sicuro che se da internet togliessero tutta la pornografia, resterebbe un solo sito chiamato Ridateci Porno. Terzo, e più importante di tutti, l'unico modo per essere rispettato come medico, anzi come uomo, è di essere un'isola. Nasciamo soli e senza ombra di dubbio moriamo soli. Dico bene Spike?